Eccoci, buongiorno a Luca Barbareschi, allora, come si diceva una volta, una personalità polietrica, attore, regista, produttore, conduttore televisivo, ex parlamentare di centrodestra, attualmente anche proprietario e direttore artistico di un teatro romano molto importante che è l'Eliseo. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Allora, con Barbareschi si possono affrontare moltissimi argomenti, io vorrei cominciare ad un argomento più generale per sentire cosa ne pensa Barbareschi. Diciamo che dal 2013 noi abbiamo dal punto di vista politico un'Italia divisa in tre poli, più o meno, il centrosinistra, il centrodestra, il Movimento 5 Stelle, abbiamo fresca una nuova legge elettorale che probabilmente non ci consegnerà un vincitore il giorno dopo le elezioni, abbiamo un paese disorientato, che ha voglia di normalità, ma c'è anche molta rabbia e molto risentimento. È la fotografia che anche Barbareschi nel suo peregrinare anche per l'Italia e nel mondo rileva o no? Sì, è la fotografia perfetta e tragica, anche perché a questo va aggiunto un tema che è quello delle banche. Le piccole e medie imprese, adesso con i peer stanno tentando di ovviare, sono distrutte dalle banche che non ci sono più per i piccoli imprenditori, che in realtà in questo paese sono la vera forza di questo paese, per cui c'è uno smarrimento politico, c'è una impossibilità di fare impresa nel senso vero della parola, c'è uno scollamento totale fra quello che è il paese e quello che viene rappresentato dai media, perché a volte è isterico, è molto provocatorio, è autoreferenziale. Totalmente romano centrico, che non tiene conto delle virtuosità e della fatica che fa la gente tutti i giorni, perché sembra che il tema, apri giornale, il tema sia l'ultima imbecillità che ha detto Asia Argento, piuttosto che un'altra di turno, quando invece abbiamo ricercatori, piccoli imprenditori, gente nell'informatica, che porta avanti il paese nell'eccellenza, per non parlare, ieri ero a Teleton, di cosa hanno fatto dei ricercatori recenti su quelli che sono... Volevo dire così, cioè lei giustamente dice, c'è una parte di questo paese, che è una parte virtuosa, di cui si parla poco, che non ha grandi spazi televisivi, che però c'è, esiste. Esiste, ma soffre, soffre perché il problema cos'è? Non paga più nessuno, tutti pagano in ritardo, se tu fai una legge tentano di... io ho fatto una legge con l'Eliseo, per salvare l'Eliseo, stanno tentando di cancellare una legge che è già stata fatta. Immaginate cosa succederebbe alle grandi imprese, alla Chrysler, a Impregilo, salterebbe tutto. Allora, siccome lei si riferiva a questo, togliamoci subito i denti, no? Mi pare siano stati 8 milioni di finanziamenti pubblico all'Eliseo, ed è scoppiata una rivoluzione con lei al centro di questa bufera, da parte anche del mondo dello spettacolo. Dice, ma come? Un teatro privato riceve 8 milioni di contributi pubblici, perché? Lo diciamo così la finiamo, a parte che il mondo dello spettacolo non so che sia generalmente, perché tutti i teatri più importanti, Trieste, Parma, Milano, Firenze, Napoli, hanno scritto al ministro ringraziandolo per aver fatto questa cosa. Perché poi se ci sono 4 peracottari che scrivono perché sono invidiosi, secondo, ho fatto un'operazione intelligente, in maniera bipartisan, in cui non abbiamo toccato i fondi del FUS, perché la coperta... Sono arrivati da fondi diversi. Terza cosa fondamentale di questa cosa. Mi spiegate com'è possibile che il teatro argentino prenda 12 milioni all'anno, il piccolo 15, l'opera di Roma che peraltro ha 57 milioni di euro di debiti, vive con un... cioè tutti hanno sovvenzioni, e il teatro Eliseo che è un trick, cioè un teatro di responsabilità nazionale, l'unico del Lazio, viva con 500 mila euro, o io vendo i biglietti a 600 euro a biglietto o la finanza non funziona. Senta, ma l'altra critica qual è? È bravo lei o perché ha fatto il politico alle entrature giuste? Vede, questa risponde alla sua prima domanda sulla maldicenza, malex, si dice in bravo, cioè il pettegolezza è più importante dell'informazione. Io, se avessi fatto questa legge sotto Berlusconi, avrebbe detto che ero il capo della P4, P5, P6, P7. In realtà è stata voluta in maniera bipartisan, da destra a sinistra, perché ho istruito la pratica in maniera intelligibile, che si capisse. Il problema è che noi abbiamo un presidente dell'Agis, certo Carlo Fontana, che dovrebbero cacciare per l'incompetenza. Adesso non c'è, ma possiamo difenderlo. No, 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 ma io lo dico. Ma so che lei assume sempre la responsabilità del suo parole. Non stanno istruire le parole. Allora cos'è il meccanismo del Paese? Siccome noi siamo incapaci, teniamo tutti i bassi per non far funzionare il sistema. Questo è quello che accade in questo Paese. C'è la forza la mediocrità. Sono i salieri, come si diceva fra Mozart e salieri, del teatro. Cioè il problema vero è che nessuno si rende conto che così come nella competizione del cinema e della televisione sono arrivati i players internazionali, per cui oggi tu hai un algoritmo e hai una smart TV e non c'erano più i canali. Vince il migliore. Nel teatro sta succedendo la stessa cosa. Sono arrivati i gruppi internazionali a Milano, come Stage, che hanno fatto investimenti, che vendono biglietti con investimenti diversi. Allora o la protezione è uguale per tutti, allora è un modello, il modello francese, il modello tedesco. Quello inglese per esempio è al 30%, però i biglietti in Inghilterra costano 200 pound. Costano molto, sì. Senta, ma perché lei dopo anche, dopo questa sua esperienza, ha tutto tondo da un punto di vista dello spettacolo, da un punto di vista artistico, e nella politica non si è candidato appunto a guidare qualcosa che nel suo mondo potesse servire anche per gli altri, cioè a dare il suo contributo? Guardi, io ho una voglia, io mi sento un animale profondamente politico perché sono un cittadino, per cui mio bisnone ha fondato il Parlamento Italiano, mia nonna è stata una delle prime fondatrici delle cooperazioni, mio padre è stato il capo dei partigiani nella Valdossola, per cui vengo da quel mondo lì. Nessuno me l'ha mai offerto di rifare politica, e forse questa è una cosa, io la farei volentieri politica, la farei volentieri, parlo quattro lingue, ho girato tutto il mondo, ho un'esperienza, ho portato dell'azienda in borsa, ho un'esperienza straordinaria. Ma oggi con chi farebbe politica? Sempre col centrodestra? Se dovesse ritornare nel lagone della politica? La coerenza probabilmente la farei col centrodestra, perché ho una mentalità più legata all'imprenditoria, cioè non vengo da una storia comunista. E il PD di Renzi in qualche modo non ha anche più di là? A me Renzi era piaciuto molto, mi piace molto, mi sembra che non si riesca mai a entrare nel merito, Renzi ha provato a fare dei cambiamenti, peraltro erano molti cambiamenti, erano quelli che voleva fare anche il centrodestra, ma le rendite di posizioni... Tanto che chi lo accusa dice che fai politiche di centrodestra, no? Sì, ma non c'è più destra e sinistra, c'è chi ha una visione dinamica, veloce di provare a fare delle cose e c'è chi non vuole che questo paese cambi, perché la realtà è che quando tu provi a cacciare delle persone incapaci non puoi ancora in questo paese che se ne dica. E queste resistenze frenano il paese. Ma negli altri paesi è diverso? Ma negli altri paesi... Le faccio un esempio sulla legge, per esempio, che abbiamo fatto adesso sul cinema, sulla televisione. Se un broadcaster non rispetta le regole in Inghilterra di messa in onda dei prodotti, le frequenze vengono rimesse all'asta. Questa è una legge sana, perché obbliga. Da noi questa legge qui, fatta la legge, sarà già gabbato lo santo, per cui gli investimenti non verranno fatti. Ed è... Cioè, la dinamica di un paese è fatta anche con lacrime sangue a volte, è fatta con impopolarità. Il problema è che oggi la politica, e Grillo l'ha capito, che sta scappando a gambe levate, è che bisogna... Cioè, devi accarezzare il pello delle persone, dice lei. No, non devi accarezzare. Purtroppo deve essere come i figli. Guardi, io ho sei figli. Io sono un buon padre, ma non sono mai stato amico un quarto d'ora dei miei figli. Allora, un buon leader politico è un buon leader, ma non è amico dei cittadini. Fa quello che è giusto, nella sua visione, per i cittadini, che lo verificheranno, non dopo un quarto d'ora, con dei sondaggi del popolo della rete, che conta come il 2 di picche, che non esiste, ma dopo tre anni, perché lo Stato è come un transatlantico... Questo vuol dire che però i cittadini, oltre a fare provvedimenti popolari, deve chiedere pazienza. Deve chiedere pazienza, però ci vuole una trasparenza straordinaria. Cioè, quello che non accade... Guardi cosa è successo a MPS, a Monte di Paschini, hanno buttato uno giù da una finestra. Davide Rossi, sì. Hanno buttato uno giù da una finestra, con dei filmati, dove la gente guardava uno morente, e andavano via. E nessuno ne parla. Come si può pensare che un paese abbia fiducia in una rappresentanza politica e istituzionale, che non mette i puntini su lì, su quello che accade dal punto di vista giuridico, dal punto di vista penale, di quello che accade. Cioè, si vive in una nebbia costante, e dove la gente poi... Cos'è il populismo? Il populismo è questo. Ci sono due temi tragici nell'Occidente. Il pensiero politicamente corretto, il pensiero politicamente corretto è il tumore al cervello della cultura occidentale, perché porta a un populismo, perché porta alla vanificazione dell'elaborazione del pensiero, che però prevede una responsabilità del singolo. Senta, le vogliono chiedere questo, proprio perché lei ha fatto questo discorso, che può essere anche largamente condivisibile, magari da una parte, un'altra parte invece magari pensa in tutt'altra maniera. Lei, quando è stato parlamentare, ha avuto un record di assenza in Parlamento. Allora dice, io sono per la meritocrazia, contro la mediocrità, e perché è stato così poco il Parlamento? Guarda, io sono stato assente, la mia media purtroppo si è abbassata negli ultimi due o tre mesi, perché non si faceva quasi nulla, e io mi sono occupato di altre cose. Dentro il Parlamento... in quel momento perdeva tempo. In aula non so, non accadeva assolutamente nulla, non accadeva nulla. La prima parte invece era molto presente, se le vede la parte, e poi andavo a molte missioni, ero molto vicino a Fini, giravo con Fini, viaggiavamo... A proposito di Fini, le voglio chiedere una cosa. Mi permette, sentiamo che c'è una cosa che riguarda Barbareschi e Fini. Andiamole in onda. Come hai fatto a credere a Gianfranco Figli, questo mi ha stupito di te. Se ti dicessi, parlassi male di Gianfranco oggi... No, no, ma ti dico... Non è una consapevolezza. No, e ti direi... una balla, perché io li ho voluto veramente bene. E devo dire, l'avventura che ho fatto politica l'ho fatta credendoci totalmente. Quando qualcuno mi prende in genere, diceva, ma ti sei commosso e piangevi al discorso di futuro di libertà. Sì, mi sono commosso e piangevo, ci credevo. Pensavo che potessimo fare in quel momento un centro-destra laico, innovativo, aperto, perché l'ottusità della sinistra era terribile in quel momento. Tanto è vero che se appena c'è uno che provano a fare una norma innovativa, lo odiano subito. Questo è un paese complicato. Ho visto con mano quando mi parlo della mia esperienza politica. Sinceramente io mi sono riuscito a arricchire, devastato, perché non è il mio mestiere, perché io non sono un politico, perché io ho la sindrome di Damasio. Penso una cosa, sto dicendo, non devi dirla, l'ho già detta, dovrebbe mordersi la lingua. Ma perché poi lasciò Futuro e Libertà per andare al gruppo misto? Dopo poco, vi pare, dopo quel congresso? Perché durante una trasmissione di Angora veniva a sapere che Futuro e Libertà si erano uniti a Rutelli, a Casini, si erano spostati a sinistra. Io sono stato eletto col centro-destra, ho girato per fare campagna elettorale in Sardegna con una macchina in cui c'è il sito meno male che Silvio c'è, un minimo di coerenza e non la deve fare. Non è che poi improvvisamente a metà... di dimettersi proprio invece dal Parlamento? No, perché volevo a tutti i costi, volevo portare a termine una legge legata alla pedofilia, la legge che poi Franceschini con un grande zelo ha portato a termine che è quella dei tax credit per il cinema. Tante cose che mi interessava fare perché poi io sono un secchione, cioè io le cose devo finirle e le ho finite con Berlusconi che era la persona con cui ero stato eletto. Sono felice di Gianfranco Fini perché con Gianfranco vedi la politica è una cosa terribile perché la gente si insulta poi dopo nella bovette sono tutti amici questa è un'altra cosa terribile. Ma io non posso non voler venire a una persona a cui ho dedicato vent'anni con coerenza. E delle accuse è indagato per riciclaggio addirittura nell'inchiesta sul re del Esotma Cincorallo che pensa? Io sono un garantista vorrei che le notizie uscissero e di questo è il tema del penitente all'Eliseo dal 7 novembre di un grandissimo trammaturgo un premio Oscar pluri premio Oscar pluri premio Pulitzer ecco io penso che le sentenze ed è quello di cui parla questo spettacolo questo si ispira a un caso vero uno psichiatra non denuncia pubblicamente il racconto di un suo paziente che gli dice che vuole fare una strage il ragazzo fa una strage e l'accusato non è più l'assassino non interessa più nessuno per me l'assassino ha fatto la strage ma si prende lo psichiatra come colpevole della strage allora questo è il segreto professionale ci sarebbe esatto la famosa il famoso giuramento di Ippocrate però quella fine line quella cosa sottile è totalmente violentata da voi dei media perché spesso la notizia vecchia è una non notizia non si carica pubblicità su una notizia vecchia la notizia nuova cos'è la notizia nuova uno psichiatra che l'assassina è lui infatti lui dice ma come questo pensiero politicamente corretto è la follia quel ragazzo ha fatto una strage ha ucciso decine di persone e adesso il colpevole sono io con questa logica incolperemo Shakespeare perché facendo delle commedie dove si uccide delle persone ispira all'omicidio quindi tornando a Gianfranco Gianfranco quando sarà accusato nel terzo grado di qualcosa dirò quello che penso ma siccome l'avviso di garanzia e questo Gianfranco dovrebbe saperlo visto che a suo tempo l'aveva cavalcato quando quel simpatico o inutile politico di Pietro ecco c'è un abituto di Barbareschi ma lo conosciamo ma no ma raccontava l'avviso di garanzia è un avviso a garanzia della tutela la tutela allora l'avviso di garanzia durante la gente è diventato condanna certa ormai anche persone informate sui fatti non solo ma con la nuova riforma della giustizia se voi l'avete letta possono bloccare i conti correnti perché se sei in sospetto ma siamo pazzi è una dittatura terribile che rapporto ha con i magistrati con i magistrati che rapporto ha io guardi questo testo parla della magistratura io ho un buon rapporto con i magistrati che non fanno politica ho fatto adesso un film su Chinnici con Castellito che andrei non nella giornata della legalità prodotto da me voluto fortemente insieme alla RAI perché voglio raccontare quando il magistrato era un civil servant quando non andava sui giornali ogni giorno quando faceva il suo lavoro e quando finiva guardi vuole una proposta come potrebbe funzionare la magistratura tutti i file vengono messi con un nome di codice e le cause vengono fatte di modo che la procura di Roma o di Napoli non è l'ufficio stampa di Woodcock e di altri e abbiamo sistemato anche i magistrati io voglio guardi per me la deriva politica della magistratura è la prima parte è il primo passo verso la dittatura l'altro giorno contro i cosiddetti magistrati superstati è scagliato anche Sabino Cassese ma certo Cassese è un grande grande socialista non si può ecco perché lei dice io sono socialista se per esempio ma infatti io se si potesse rifondare il partito socialista quello sono nato e quello è il mio cuore mi dice un'ultima cosa lei anche pubblicamente mi pare ha denunciato che durante la sua infanzia lei subì degli abusi sessuali contro la pedofilia ma anche contro il bullismo il saperbullismo a che punto di consapevolezza siamo da un punto di vista culturale molto più alta rispetto a qualche anno fa mi ricordo che dieci anni fa quando ne parlavamo mi dicevano figuriamoci sono così tanti casi adesso la gente lo sa i ragazzini lo sanno a scuola se ne parla il papa ha fatto un grande passo in avanti perché il papa è stato molto coraggioso a dire delle cose molto pesanti senza poi dimenticarsi che anche questa a volte i media spostano sembra che gli unici pedofili siano i preti ci sono le mele marce lì la pedofilia più grande avviene all'interno della famiglia a casa perché io credo che io l'ho subito l'ho subito non ho fatto nome e cognome di chi mi ha violentato vent'anni dopo perché non ho 50 anni dopo e questa è una cosa terribile di quello che sta avvenendo adesso sulle denunce delle molestie perché questa è pornografia della comunicazione si usa la stampa per farsi pubblicità perché un adulto è consensiente che si sveglia a 50 anni si ricorda 10 anni prima in un festino a Monte Carlo è successo qualcosa non gli credo senza l'ultima domanda uno scenario che potrebbe esserci come potrebbe non esserci il centro-destra Silvio Berlusconi di nuovo alla guida del paese che vuol dire se mai dovesse accadere non so se può essere il centro-destra i sondaggi danno il centro-destra vincente potrebbe esserci un altro premier che farebbe il padre nobile però voglio dire in una democrazia normale o vince la destra o vince la sinistra per cui mi sembra sempre ogni volta che si parla del futuro dell'elezione un gran allarme se arriva alla destra questo peraltro è un paese di destra nella sua proposta il sentimento del paese è di destra gli italiani sono di destra gli italiani non vogliono pagare le tasse non vogliono fare niente in generale gli italiani sono degli individualisti sono tutto meno che gente cresciuta con un senso del sociale basta girare per Roma soprattutto a vedere lo schifo di Roma lo schifo di Roma non è colpa del sindaco è colpa dei romani che non ha rispetto dalla propria società dei romani mi permetto di dire anche dei tanti turisti che ma i turisti si abituano alle abitudini nostre se lei va in Marocco quando tutti odiano i marocchini il paese il barocco è uno dei paesi più civili che ho conosciuto i marocchini arrivano qui sono educatissimi si adeguano subito diciamo alle nostre franze nessuno è educato e Mirta Buon